Ovviamente domanda di rito, come è andata quest'anno in generale? Una prima impressione così adesso. Siamo in onda? Siamo in onda. Allora è andata benissimo perché, naturalmente, perché i giornalisti sono quasi 2800, arrivano da 16 paesi tra cui l'Arabia Saudita, la Gran Bretagna, l'Olanda, la città del Vaticano naturalmente e l'Ucraina, un paese molto alla ribalta delle cronache ed è bello pensare che un collega parta da quel paese così travagliato, pieno di problemi, per venire a occuparsi di libri e di cultura in un posto così lontano e questa è già una cosa molto bella. Allora abbiamo tweetato 41.000 volte con il hashtag Salto14 che ci ha posizionati in quest'ultima settimana tra i top 5 in Europa, cioè con tutto quello che succede in Europa siamo stati nei primi 5 come hashtag. 350.000 persone, utenti unici hanno cliccato il nostro sito, sono mi pare 2-2 milioni e mezzo adesso non lo so, faccio finta di ricordarmelo, quelli che hanno visitato le pagine del sito. Per ultimo, ma la cosa più importante, voglio ringraziare uno ad uno, con il pensiero, le 80 persone, gli 80 ragazzi stupendi e ragazze che hanno lavorato con me, giornalisti, giovani giornalisti, ragazzi del master, fotografi, video operatori come voi, hanno qualche anno in più, vi auguro anche voi di poter diventare bravi appassionati come loro, che hanno consentito di coprire in questi giorni centinaia, centinaia di eventi del Salone in un modo meraviglioso, creativo, fresco. Andatevi a vedere per esempio il TG del Salone, andatevi a vedere per esempio il Salon Quiz e tante altre cose sul sito www.salonelibro.it Stanno di Prenzelianisco, c'è un ospite internazionale che è la Santa Sede, abbastanza sui generis, com'è stato il rapporto, com'è stato lavorare con la Santa Sede? Ma io avevo ricominciato a ripassare latino immaginando di dover parlare una lingua conosciuta insomma al nostro paese ospite, poi ho scoperto che parlano italiano benissimo, meglio di noi, abbiamo incontrato delle persone assolutamente meravigliose come Monsignor Iacobone, Don Costa che è il direttore della libreria editrice vaticana, che ha scritto peraltro per esempio un libro per insegnare ai giornalisti a parlare di Santa Sede, di religione, così attraverso un bellissimo escurso storico di come il giornalismo ha trattato la religione. Lavorare con loro è stato emozionante perché quando abbiamo organizzato lo scorso mese di marzo la conferenza stampa in via della conciliazione al Vaticano, abbiamo incontrato Padre Lombardi, il direttore della sala stampa vaticana, abbiamo avuto modo di conoscere anche lì dietro le quinte la grandissima macchina che vediamo insomma in moto, in opera ogni volta che accendiamo la televisione che c'è il Papa che comunica, abbiamo potuto vedere anche noi da dietro il backstage di questa macchina straordinaria. È sicuramente un'esperienza che è destinata a continuare in qualche modo perché comunque il prossimo anno ci aspettano dei grandi appuntamenti che vedranno la religione protagonista, la fede protagonista a Torino con l'ostensione della Sindone, con il bicentenario di Don Bosco, con l'annunciata visita del Papa quindi sicuramente avremo modo di collaborare ancora, è un rapporto che è iniziato, come tutti i rapporti che si tessono al Salone non si sfilaccia, non finisce ma continua e si rafforza con il tempo.